Musica Nel corso dell'anno abbiamo messo in atto molti strumenti, anche diciamo di supporto economico. Abbiamo ancora molti disciplinari aperti, un disciplinare per la ripartenza in sicurezza. Oltre a tradizionali strumenti, quelli di sanificazione, l'acquisto di macchinari per sanificazione, abbiamo previsto l'ammissibilità a contributo proprio anche interventi strutturali che possano in qualche modo consentire un'organizzazione del lavoro che tutela i dipendenti. Abbiamo poi cercato di puntare anche sull'internazionalizzazione delle nostre imprese. Abbiamo un disciplinare ad hoc in cui è previsto, per esempio, l'aspetto molto legato anche al digitale. Ancora abbiamo un disciplinare mirato all'aspetto agricolo, all'agricoltura sulla filiera corta. Un altro aspetto su cui ci siamo concentrati è la parte delle società cooperative per la riqualificazione e anche per il consolidamento patrimoniale. E ultimo, un disciplinare relativo alle mostre e fiere. Io inviterei tutti i soggetti, diciamo, interessati proprio a prenderne visione. Noi siamo aperti, siamo operativi, è tutto sul nostro sito internet. Abbiamo una modulistica estremamente intuitiva. Senza alcuna, diciamo, produzione documentale, tutta questa certificazione. Le attività formative del PID Firenze proseguono mercoledì 2 dicembre con un nuovo appuntamento online su eventi virtuali, opportunità e criticità con Meet, Zoom, Skype, Stream, Yard. Due nuovi appuntamenti formativi online sull'ambiente. Giovedì 3 dicembre dalle 9 alle 13 si parlerà delle modifiche al testo unico ambientale alla luce delle recenti novità introdotte dal DL 116 2020. Venerdì 4 dicembre dalle 9 alle 13 approfondimento su rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche, casi pratici e strumenti telematici. Due nuovi appuntamenti formativi online sull'ambiente. Giovedì 3 dicembre dalle 9 alle 13 si parlerà delle modifiche al testo unico ambientale alla luce delle recenti novità introdotte dal Decreto Legislativo 116 2020. Venerdì 4 dicembre dalle 9 alle 13 approfondimento su rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche, casi pratici e strumenti telematici. Grazie a tutti! Grazie a tutti!